Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di... Usciamo da sto cazzo di ELOL di merda E... Allora Yasuo, hero mid Hero mid first pick Care invade? Eh lo so, sicuramente Hero mid first pick Yasuo mi fa... No, per favore, lascia me a mid, sono me in Yasuo, me in Yasuo Si chiama anche Samurai in Armor, quindi penso Che sia me in Yasuo sul serio Quindi ho detto, vabbè, facciamo i buoni stavolta Lasciamogli la mid E andiamo a jungle con Gragas Andiamo a jungle con Gragas Pull mine blue Eye fear Leaks invade Ora Ho preso Gragas perché Diciamo che è forse l'unico jungle con cui mi sento abbastanza confident Con cui ho un po' di skill Comunque è sempre un pick forte Abbastanza sicuro, visto che È molto utile al team e poi è un tempone E loro hanno un team relativamente a squish A parte Nautilus E hanno Queen top Queen top con barrier Darius avrà sicuramente parecchi problemi Quindi il primo che farò sicuramente sarà da lui Anche solo per dargli un po' di pressure Anche solo per dargli un po' di pressure Sì, inizio da qua Iniziamo con la E Spero che Trash mi si tanki un pochino di Un pochino di hit È possibile perché alla fine non so se sa da cosa sono iniziato Siamo, se non sbaglio sono Sono Platino 5 97 punti o una roba simile Cioè sono Se vico questa sono in promo Quindi vediamo di Vediamo di incerto cazzismo Digno? Sì Sono già qui a registrare In effetti è abbastanza prestino Qua metto una word Perché non mi fido È abbastanza prestino perché sono le Quale sono? Saranno tipo le Le 7.20 Però stamattina vado a fare Quindi faccio il video subito Ok Dario sembra che se la stia Cavando Abbastanza egregiamente Contro Contro Queen Però adesso La ganchiamo O almeno le facciamo spagare il flash Li diamo abbastanza pressure Ora Pinghiamo lì che sto venendo Così magari lo vede Sperando che non ci sia lì Sì in qua Ok Sta iniziando a ingaggiare Bravo bravo Ecco Finalmente Beh ok ok Pensavo facessi prima Oh 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 mio dio Ok ok È stato molto molto rischioso Oh mio dio Prenditelo nel culo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Quanto lo sapevo Bravo VP VP Ci siamo presi due flash E due kill Cioè meglio di così Non potevo andare Cazzo Io lo sapevo Io lo sapevo Io lo sapevo Io lo sapevo Che gridava Io lo sapevo Che gridava La spanciata della morte Meno male che non mi ha ucciso Con quella Q Io lo sapevo Perfetto Ora Darius dovrebbe stare tranquillo Per un pochino Però penso che ci faccia un'altra Un'altra passata Anzi prima Prima vado mente Perché gas sta pushando forte Sembra Sembra Sembrava essere a fortino Sto gli as Per ora Allora Word Sempre meglio Secondo me Mettere qualche Word in più Perfetto Chi è che ha fatto la kill Jean Bene 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 Adesso Visto che sono Abbastanza in vantaggio Gli ho anche Pregato il double buff Direi che vado a farmi Vado a farmi lupi No Ok Vado a farmi lupi Poi qua Me lo preparo per il draft Non so se mai Ok Non smite Perché voglio andare Nella sua giungla Voglio invaderlo L'invadere un lissi Non è Non è Non è molto Intelligente da fare Però Visto che ora sono su Sono avanti L'un non è red Io ho red ancora Per un pochino Nel caso Voglio tradarmi Buono Buono Iaso Nel caso Voglio tradarmi Non ce la farà La ward Normal Normale la metto qui Eccolo qua Oh cazzo Oh cazzo Stavo per mettere gli asus in pericolo Sordi gli asus Qui ho fatto un grande errore Perché stavo per mettere Veramente tanti in pericolo gli asus Però Non pensavo che C'era Nautilus subito lì Si vede che voleva romare Quindi Vabbè Ad ogni modo Gli ho interrotto un rom Quindi Ok Bravo Iaso Bravissimo Iaso Perfetto Sono contento Sono contento di averli lasciata Per una volta Ora io invado di nuovo Perché voglio mettere la pin qua Ok non c'è Potrebbe essere qui E può sempre bene Guardare tutta la jungle del nemico Cioè non tutta Ma Ok Ma comunque Parecchia Bravado Torno a farmi il mio gromp I lupi No ok c'è il blue Ok Lo smito perché non c'è più mano Ora l'issine l'abbiamo neutralizzato abbastanza Perché Se l'issine non fa nulla in early game Poi è molto difficile Facciamo la cosa dopo E poi io sono Dragas Quindi sono assolutamente la late game La build che mi farà Oh No ce la fanno Ce la fanno ampiamente Quest'è un'altra kill per noi Benissimo Oh Oh Ora un ticco le mani Peccato Peccato per Ginkai morto Ce la fa? No Si vede che ha avutato Ora torno top Torno top Che Darius Quante è 34.040 Ma purtroppo Sempre un range Quindi Alla fine Soffre sempre Come in top I have six Ok ora che un ultimo Posso sbalzare indietro Non so se ancora il flash Penso di no Penso che gli sia appena tornato Credo che gli sia appena tornato Il flash Io l'avevo gankata Tipo a L'ho gankata Praticamente subito Quindi penso che gli sia tornato Voglio farmi il mio red Oh cazzo ho sbagliato No ho sbagliato Bravo Yasuo Bravo Yasuo Che si è difeso ampiamente questo di si Ho sbagliato perché dovevo prendere L'enchant del Tail blue Eh si Ok il Not probably me too Devo prendere l'oggetto AP E non Questo qua Questo qua tank Però vabbè Fa niente Mi farò Mi farò completamente Tank questo game Ok lì si ne sa Cioè Cosa è salvo Guarda dai coglioni Vieni Vieni Facciamo come prima Ah peccato Ups Salvo Ho oltato perché pensavo Yasuo ci volesse andare Giù duro Ma penso che Penso che sarebbe stato Lo stesso un errore Ora sono senza ulti Oh qua Ci passo giusto per Per dar presenza Care Darius Lì è still top Quindi se lì è still top Io ne approfitto Guardo qua I can 2v1 Penso anche io Che tu possa 2v1 Non dovrebbe Oh cazzo Sta arrivando Ok quello è lì Potremmo militare Potrebbe No no Andiamo botte Andiamo botte Non ho l'ulti E penso tanto Penso sicuramente Si è guardato qua Eh infatti Ah c'è una pink Cazzo Darius mi sa cazzo Overesteso Ok qui è andata Non c'è questo Ok Cazzo Devo fare l'aria subito Perfetto Avrei voluto Flashare e usare l'ulti Però Yasuo aveva già usato La sua Facciamo il drago Yasuo help me Si non è importante Non è importante Non è importante Non è importante Però lo porto fuori Lo porto fuori Perché non si sa mai Che Ari con una Q Possa Possa rompermi i coglioni Però dubito Ma ormai Ormai lì si è morto Quindi A posto Dragor facile Ma non ho mano Peccato Sennò potevo No non ho mano No non ho mano Devo tornare Devo tornare Mi prendo finalmente Se scarpe Finisco questo E poi mi faccio il gauntlet Subito Ok mi faccio il gauntlet Ora vado da Darius Darius che sta 65 Ok Vado prima qui Che magari riesco a doncare mid Adesso Ari è l'ulti Quindi Mi naso un po' nella merda Sicuramente gli signi Adesso ci verranno Anche se questo gli signi In effetti Mi siamo un po' tonto Mi sembro un po' tonto Però Pare che stiamo Prolungando un po' troppo La cosa Non ho già personato A questo punto Cavolo ho sbagliato Avrei dovuto mettere La Avrei dovuto mettere L'oggetto O guarda di sin Beccato Anculo Polla Tempismo brutto Perfetto Perfetto Penso che ci muoio Ok Ho dato solo La presenza Giusto per Che cazzo vuoi fare Le sin? Non mi fai nulla Sei inutile Ragazzi Un le sin con Zero kill E zero assist Sta a 12 minuti Non combina niente Che fa? Trash Che cazzo c'era Trash Bè però Gli amore Non steve Certamente Jeans La tempe Senti Non si sbagliate Nei ora mi piglio il blu poi dovrò avere il gauntlet cioè il primo cazzo del gauntlet adesso eh non ho ancora neanche fatto una gank bot io quando jungle c'è questo problema che non so mai esattamente dove sarebbe meglio andare cioè lo so ma poi mi dico e le altre lane? poi cosa succede se le altre lane feedano? quindi è un po' è che bot hanno giocato bene cioè stanno continuando giocando bene però Ashe è 2-0 Ashe è 2-0 ciao facciamo un passaggio bot facciamo un passaggio bot che forse Ashe non ha loot danco da lane non ho anche cambiare drink e anche usare flash non sapranno che sono qua ah Yasuo cazzo Yasuo contro 3 io però ora non posso andare lì Yasuo contro 3 ma davvero qua chissà se sarà ward up eh lol era ward up era ward up io devo andare mid da Yasuo che oh mio dio oh mio dio Yasuo al lucky al lucky ma vp vabbè anche io sono scemo eh non potevo rischiare meglio usare un flash che rischiare una un super flame da parte di Yasuo che me lo sarei strameritato visto quello che ho fatto beh il fatto che abbiano campato di Yasuo così tanto e si è comunque riuscito a fare una kill quasi anche due si è nascolato un po' la culo sì penso che sono felice di aver lasciato la la vita di Yasuo per una volta Darius anche sta arroccheggiando però stai attento che non hai più skill allora questa forse avrei mettere sulle scarpe no fanculo alle scarpe ora mettiamoci questo questo ok andiamo ora torno bot devo fare una gang bot per forza devo per forza fare una gang bot tra poco c'è anche il drago quindi gang bot drago e gg Yasuo si sta mangiando arie tranquillamente qua la pink la clearata però sicuramente ci sarà la ward infatti ah no c'è un'altra pink non l'avevo anche erato mettiamo la nostra e una ward qua ah ce li si ok oh yeah perfetto perfetto ho sbagliato chi è che è morto Yasuo è morto come l'ha fatto a morire avrami sbagliato oh c'è queen queen eh sì win sarebbe da fare il drago adesso ok ok quindi volevo gancare bot qui la torre penso che ce la prendiamo o se non ce la prendiamo sì però penso che ce la prendiamo bot cosa combina no? non muoio no ok ok buon flash ah vabbè rimango io a prenderla torre ok Dario spero che si faccia qualche kill perfetto 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 vi voglio benissimo 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 non potevo andare meglio di così bravo Yasuo vediamo se faccio qualche ward guardi no c'è il suo red c'è il suo red questo è mio Yasuo è andato fa casini sì vabbè non è importante anche se muore adesso pazienza ok facciamoci il drake Darius come sta qua boom il blu lo prenderò ancora io per fortuna visto che c'è il Yasuo me lo posso prendere me lo posso pappare me lo posso pappare tranquillamente io il blu oh sto chiamando veramente bene sono anche a 3-0-2 penso che quello che abbiamo fatto all'inizio abbia impedito al Lee Sin di fare qualunque altro tipo di cosa anche se si vede che non è molto bravo questo Lee Sin cioè si vede, si vede da come si muove da come fa tutto che è un po' tonto è un po' tontolone bene botte non so perché non ha carità ma tu muori ok questo muore questo non muore vuol dire che posso andare non ne posso recallare non posso recallare non posso recallare io non ne ho più dai fatemi recallare che c'è il gauntlet su vediamo un po' arino un dungeon non ne fa quindi mettermi resistenza magica penso che la metterò nelle scarpe per resistenza magica per tanto non ne ho bisogno per altre parti e mi faccio e mi faccio datman split anche se datman split non è più tante efficace come prima quindi boh magari mi faccio un random magari mi faccio un random perchè alla fine di Ash di Critic ne fa parecchio perfetto 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 veramente vp di Yasuo 5-3 buono 5-354 ggwp ecco apposta si sono arresi e siamo in promo si sono arresi? non ancora vai arrendetemi tanto questo g non lo recupero nemmeno col santino l'asuo non ha bisogno di nessuna mano vado a farm il red e poi spingiamo una lane così magari mi convinciamo a allevarsi dei coglioni e ho preso il sweeper lance per le ward ma nessuno ward quindi l'ho preso praticamente inutilmente ok quello muore ti smile cazzo dai sbar ora io sono grossi mi faccio un uomo chiunque tranne forse i carri semi titan non c'è nulla vediamo la sua giungla wardata ok ok bravo trash giascomi di un finis pace i'm willing proprio quello che volevo fare è proprio quello che volevo fare non me la sento ancora dai var perchè alla fine fanno tanto male cioè sono sotto ma fanno comunque male quindi ah la botte non sta bruciando proprio per niente vuoi vuoi che succede? perfetto ho fatto un flash bello un flash è bello report battle flame a posto direi che qua si conclude il tutto già però possiamo finire end finiamo sto game dai anche meglio per loro visto che si vede che non hanno più olio io io visto che sono nella mia magnanimità gli faccio la grazia la concessione della sconfitta così non soffro una morte rapida e indolore ggvp 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 complimenti Yasuo sono felice di averti lasciato la mil ragazzi io spero che questo secondo episodio vi sia piaciuto non ho flammato oggi perché abbiamo vinto sono in promo e niente ci vediamo al prossimo episodio bye bye